Gli studi sui gatti e sui cani non finiscono mai e, soprattutto, interessano tutti. D'altra parte, ormai da tempo, sono sempre di più questi amici a quattro zampe che vengano adottati dalle famiglie di mezzo mondo. Ovviamente, esistono anche diverse ricerche che negli ultimi anni hanno indagato sulla personalità di coloro che li amano, in pratica, chi ama i gatti che tipo è. Inoltre, stando a uno studio del 2017 apparso sullo Human-Animal Interaction Bulletin, chi decide di adottare un cane avrebbe un carattere più socievole, ma sarebbe anche attento alle regole e ai legami sociali, i gattofili, invece, sarebbero persone più portate al pensiero astratto, e in media più intelligenti e indipendenti. Infine, alcuni pregiudizi attribuiscono ai due tipi di padroni alcuni tratti di personalità abbastanza discutibili. Per esempio, secondo uno studio del 2020, i padroni di gatti sarebbero percepiti dalle donne che usano app di dating come meno mascolini e quindi meno, frequentabili, dei padroni di cani. Meglio saperlo prima di postare la foto di Fido o di Micio.